In questo video vediamo come configurare il serial plotter di Arduino, che è quella finestra che traccia i grafici, l'alternativa al serial monitor. La cosa interessante, perché ne abbiamo già parlato, è quella di utilizzarlo per far comparire più variabili, quindi avere più tracce e soprattutto capire qual è il formato, in modo da poter anche associare un nome ai vari colori e capirci qualcosa di più. Iniziamo subito. Oggi vediamo un trucco rapidissimo per utilizzare il serial plotter di Arduino. Nel serial plotter, solitamente, cosa che non usiamo molto spesso, possiamo tracciare una sola variabile e avere un'idea di come questa va. Quindi, per esempio, leggiamo un ingresso e andiamo a disegnarlo. Allora, vedremo come è possibile buttare fuori più di una variabile sul serial plotter. Allora, nel serial plotter, per usarlo, è semplicemente sufficiente fare una serial.print del valore che voglio far comparire. Allora, bisognerebbe fare println se voglio andare a capo, però, se io volessi buttare fuori più valori, posso accodarli facendo un serial print, attenzione, mettendo sulla seriale questo tipo di formato, nome della variabile, due punti, il valore che prende, separati da virgola. Quindi, avendo più variabili da presentare, dovrò andare a stampare sul nostro serial un n due punti, poi vado a capo, faccio un altro serial print, dove metto il valore della variabile effettiva da stampare e proseguo così. Se avessi un'altra variabile, metterò poi una virgola e così via. Finché all'ultimo metto println e abbiamo le variabili che si muovono e seguono il tracciato, ognuna con il suo colore e con la label messa in alto in modo che siano distinguibili. Per fare un test rapido colleghiamo un trimmer all'Arduino, quindi lo schema che andremo a seguire sarà una cosa del genere, usiamo per esempio l'A0, classico trimmer da 10K collegato tra 5V e GND, modificandolo vedremo il valore che cambia. Prepariamo un nuovo sketch di Arduino, inseriamo serie.begin9600 nel setup, andremo a leggere un ingresso analogico, abbiamo scelto l'A0, quindi faccio int v uguale analog read di A0. Vogliamo che là c'è un'altra variabile, per esempio una costante, facciamo max uguale, mettiamo 100, anzi facciamo 200, è un intero, stampiamoli con serial.print, apro e chiudo, mettiamo la prima, v due punti, poi mi copio serial.print, ora qua mettiamo il valore, quindi v, quello che andiamo a leggere. Poi se volesse continuare, quindi vogliamo andare a stampare il max, questo max non è un gran che, perché vedete che viene riconosciuto come parola speciale, gli metto un V davanti per evitare problemi, facciamo virgola, qui metto Vmax, due punti, mettiamogli un altro serial print e stampiamo Vmax, dobbiamo poi concludere con la capo o incolliamo un'altra serial print semplice e qui dentro mettiamo slash n, altrimenti facciamo una print ln, quindi questo qua è tutto quello che ci serve, qui abbiamo una output di valori un pochino esagerata, mettiamo un delay di 500, in modo da non sovraccaricare la seriale. Compiliamo, carichiamo e vediamo come funziona. Vediamo la schedina, abbiamo fatto l'upload, qui apriamo il serial plotter, ecco che iniziano ad uscire i valori, qui abbiamo una Vmax perché resta sporca la seriale, a volte fa questi scherzi. Ora, andando a modificare la posizione del nostro trimmer, vedete che abbiamo i due valori, il trimmer ovviamente può salire anche un po' di più, ma vengono tracciati sia V che Vmax, ognuno con la sua label, in questo modo possiamo riconoscerli e avere anche dei grafici un pochino più leggibili e più interessanti anche da comprendere e diffondere. Spero sia stato interessante, è una funzionalità molto utile, soprattutto per realizzare magari dei grafici che poi volete includere in qualche relazione oppure volete condividere, soprattutto per capire quello che succede, perché vedere i valori che si muovono, quindi le tracce, è sicuramente di grande aiuto. Bene, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!